Ciao a tutti, la ricetta che vi propongo oggi sono i muffin ai mirtilli, si impastano in un attimo, sono velocissimi da realizzare e sono i dolcetti che il cappuccetto rosso portava nel cestino alla nonna, quindi preparateli per i vostri bambini, ne saranno entusiasti. Andiamo di seguito a vedere tutti gli ingredienti per realizzarli. Preparo l'impasto dei muffin, metto all'interno di un contenitore due uova, aggiungo un cucchiaino di estratto di vaniglia o l'aroma di vaniglia oppure una bustina di vanillina, la scorza grattugiata di mezzo limone, l'olio di semi, il latte, lo zucchero semolato e do una mescolata veloce. Aggiungo la farina e mezza bustina di lievito per dolci. Do un'altra mescolata veloce. Arrivata a questo punto aggiungo due cucchiai colmi di mirtilli. Il resto dei mirtilli li andrò a disporre direttamente sui muffin. Mescolo. Posso distribuire l'impasto all'interno dei pirottini disposti in una teglia da muffin. Metto l'impasto nei pirottini andandole a riempire per due terzi. Dispongo i mirtilli rimanenti sulla superficie dei muffin. I muffin sono pronti. Con le dosi che vi ho dato me ne sono venuti 11. Posso infornarli. Ed ecco i muffin ai mirtilli pronti dopo 25 minuti di cottura. Spolverizzo con zucchero a velo e sono pronti da servire. Grazie a tutti. Grazie a tutti.